Bentornati sul canale di Sebigiafcarena e questa volta vi propongo una chicca Sono riuscito a trovare le patch notes del beta server, del test server Quindi del server dove provano tutti gli aggiornamenti, tutte le cose E hanno dei giocatori apposta per testare se ci sono bug oppure se l'aggiornamento funziona Allora, quindi questo non è detto che sia ufficiale Di solito quando escono queste robe qua rispecchiano molto quello che poi sarà l'aggiornamento, l'update per il server globale Una cosa chiaramente da tenere di conto è che questo aggiornamento dovrebbe uscire probabilmente fra una settimana Quindi direi poco prima del venerdì 25 ottobre Perché sarà lì che poi verrà messo il nuovo viaggio delle meraviglie Almeno questa è l'idea che mi sono fatto Di solito quando escono questi aggiornamenti passano all'incirca una settimana A volte anche due, dipende, insomma vediamo come andrà Allora, ma cominciamo subito a vedere cosa ci porta questo nuovo aggiornamento Prima di analizzare tutto mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanellina perché tra poco testerò una live Che precisamente sarà domani sera 17 ottobre alle 21.30 Non perdetevela perché farò una bella sessione di summon e internet permettendo Perché non è scontato purtroppo che fare le streaming ci vuole veramente tanta banda Proverò a fare anche un Ask and Answer Cioè che voi mi domanderete le cose tramite la chat e io cercherò di rispondervi in tempo reale Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina e poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova patch Cominciamo Allora, prima di tutto ci danno 600 gemme per aver mandato il server down E come al solito, insomma, le gemme gratis sono sempre gradite Eccolo qua, subito si parte a bomba Nuovo eroe, Lightbeater Quindi ce lo aspettiamo già bello cazzuto Perché insomma la fazione Lightbeater fino ad ora non ci sta proprio tradendo per niente Rigby, il Brewmaster Se avete letto qualche cosa a proposito della storia di Alcarena Oppure se vi siate messi per sbaglio a premere informazioni sulla taverna Rigby è il tizio che fa la birra e il Brewmaster è birraio Mastro birraio È quello che fa la birra per la taverna e che gestisce la taverna È il padre di Cecilia, quella che non ci fa mai uscire un cazzo niente dall'esammon Sì, proprio lei Quindi, andiamo subito a vedere quali sono le informazioni attuali su Rigby Così vediamo, prima di andare poi a fare un'analisi quando uscirà Ci diamo insomma una piccola preview Allora, eccolo qua Vediamo un pochino Rigby Intanto è un Lightbeater Rarità ascesa, quindi avrà 4 skill Classe Strength Quindi forza, il pugno Quindi sarà item da tank Tipologia melee Chiaramente che essendo un fighter A parte Gwyneth per ora sono tutti melee Quindi attaccherà da vicino E non specificano altro a proposito di posizioni, eccetera Insomma, non vi sto a guardare la lore perché interessa a nessuno, immagino Andiamo subito a bomba sulle skill Allora, barrel bomb, quindi il barile esplosivo Se avete giocato a League of Legends Questo PG vi ricorderà molto Gragas Ma dai, aspettiamo un attimo Ma quella faccia Con quel barbone Quello sguardo molto sorgnone Un po' ci ricorda qualcuno Gragas, esatto Quindi, e le skill più o meno sono simili Ora, non so se con l'ultimo rework League of Legends Da una vita che non ci gioco Quindi magari non Non sarà molto simile adesso Però insomma Ai tempi Quando giocavo Quindi verso i primi update del gioco Ecco, le skill le ho ritrovate molto simili Partiamo col barrel bomb Cosa fa Rigby? Lancia un barile Su un nemico Infliggendogli il 150% del suo danno all'impatto Poi il barile esplode su di lui Versando il contenuto E Rigby lancia la sua pipa Sul contenuto Che sembra essere infiammabile Chissà che non beve birra Beve benzina Quindi accende Questo liquido esplosivo E infligge il 200% Danno AOE A tutti i nemici vicini Con l'esplosione In più I nemici vicini all'esplosione Verranno Satellite Quindi accesi Un po' come se fossero Dei fiammiferi In questo caso Cioè prenderanno fuoco Per 8 secondi Subendo il 30% Di danno Quindi della statistica del danno Al secondo Non male Insomma Sono già diversi danni Andiamo a vedere poi A livello 81 Al 161 Quando si potenzia la skill Explosion damage Aumentata del 250% E poi l'esplosion damage Fino al 300% Non male Insomma Già i danni Sembrano belli tosti Ma Non è Questa la cosa interessante Era la ult Insomma Fa bei danni Ma ci saranno Delle belle sorpresine A mio parere Se il PG Lo lasciano così Diventerà il tank Se non il più forte Del gioco Forse il secondo Il terzo Comunque vedremo poi Vedremo se ci avrò Acchiappato E fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Fire Breath Quindi Respiro di fuoco Qui a tutti gli effetti Rigby che fa Prende una large swig Quindi una grossa sorzata Del suo drink E la sputa Un po' alla Triple H Della WWE In faccia ai nemici Vicini Chiaramente Infliggendo loro Il 120% di danno Immagino Di solito queste abilità Hanno raggio a cono Quindi sputerà così Probabilmente colpisce Stile Iron Quando fa il pull Su un cono Prenderà tre personaggi Non di più A meno che non lo mettiate Nella Nella posizione 4 Nella backline Però Questo Near bi enemies Mi fa pensare Che devono essere vicini Quindi non riuscirà Magari a fare un cono Enorme Quindi Infligge il 120% Del danno A chi colpisce E A bassa Riduce L'accuracy Quindi la precisione Di 30 punti Per 5 secondi Al 21 Il danno aumenta A 150% Al 101 La precisione Ridotta per 7 secondi E al 181 Il danno aumentato Al 180% Utility Un po' di danno Non eccezionale Questa skip Però insomma Non è malaccio E andiamo a vedere Il Drunken Frenzy E qui Ragazzi Si Si sfocia Ragazzi e ragazze Si sfocia Sull'allucinante Allora Rigby beve E come tutti i classici Bevitori Di qualsiasi gioco Si imbriaca E c'ha la Frenzy Mode Come sempre Insomma Quando Quando perde il cervello E va in In euforia Praticamente Proprio come un ubriacone Al bar Che ha fatto il goccetto di troppo E comincia A scalmanare Quindi Beve E riduce Il danno L'incoming damage Il danno Quindi subito Del 20% In più Aumenta La sua fretta Di 15 punti Non male L'effetto Può essere Staccato Fino a 3 volte Quindi Siamo già A 60% Di Danno ridotto E a 45 Di Furia Guadagnabile Cioè 60% E 45 Di furia Solo a livello 1 Cioè A livello Base È al 41% La Drunk and Frenzy Dovebbe essere sbloccata Ma non è finita Che non ci bastava Questo Se Riesce a staccare Fino a 3 volte Rigby Si incazza Va in enrage mode E quindi Becca anche Altri Cioè La sua Ast La sua Fretta Arriva fino a 65 punti Per 8 secondi Per 8 secondi Finito quello Poi ritornerà allo stato normale Quindi dovrà Dovrà E quindi dovrà Arribere Ma Non è finita Qui A livello 221 Il Ogni stack Del danno ridotto Ci fa guadagnare Il 30% Quindi Invece Di arrivare Al 60% Arriviamo Al 90% Del danno ridotto Troppo Cioè Veramente Un po' Eccessivo Ecco Al 201 Prendiamo anche un po' Di crit rate Perché siccome Non ci Non ci bastava No? Che riducesse a schifo Già un po' Di danni li fa Ma qui come vedete Crit rating Is increased By 30% Each time Each time Quindi 30% Di critical rate Per ogni stack Quindi arriverà Al 90% Senza equip Cioè Quando arriva al massimo Critta sempre Fantastico Veramente Interessante Ed ecco L'ultima Come ogni Ubriacone Che si rispetti A un certo punto Ha bisogno Anche di riposarsi E quindi Quando Finisce La Frenzy mode Quindi L'euforia Dell'ubriacone Rigby C'ha Il calo C'ha L'ascesa E quindi Cosa farà Si metterà A riposarsi Recuperando Il 12% Del proprio HP massimo Per 5 secondi Quindi Per second Per 5 secondi Quindi ogni secondo Per 5 secondi Recupererà Il 12% Del proprio HP massimo Che è tantissimo Tra l'altro Al 141 Becca anche Un intrinseco Buff Alle cure Ricevute Del 50% E al 221 Dell'80% Addirittura Che Questa skill Mi fa ben pensare Che tutte le cure Di Rigby Aumentino Quindi se lo curate Con Nemora Con Lucius E Festa Cioè E tutti Gli altri Amiconi Healer Del gioco Lui Recupererà Molto di più Cioè Per un Io ragazzi No Cioè Mi sembra Allucinante Ha veramente Troppa Sustain Come PG Veramente Veramente Troppa Comunque Lo vedremo Poi in game Quando uscirà E non è finita La signature ability Qui Rigby Cosa andrà a fare Praticamente Con il livello 1 Lo sblocco Ammitico Della signature L'abilità fire breath Quindi il soffio di fuoco Il respiro di fuoco Andrà a triggerare Facendo un'esplosione Aggiuntiva Quando gli avversari Sono nella modalità Cioè Sono stati affetti Dalle fiamme Della barrel bomb Quindi della ulti Aggiungendo Un 180% Di danno In più Cominciano a essere Discreti danni Veramente Veramente Tanti Allora a quel punto Poi andando Su più 10 E più 20 Avremo un danno Bonus E al più 30 Explosions Cause Enemies To be Knocked down And stunned For 3 seconds Praticamente L'esplosione Farà un Knockdown Butterà A terra I nemici E li stunnerà Per 3 secondi Mi sembra Veramente Veramente Buono Mi piace Mi piace Proprio il kit Mi piace Più che altro Questa sinergia Con La drunken Mod E poi la parte In cui Fa il restore Però Questa signature Mi sembra Che vada ad aggiungere Un surplus Damage Al personaggio Che non ci dispiace Per niente Bene Ora possiamo Tornare Quindi Alla Alla patch Ok Scusate Per poter Eccoci qua Allora Quindi Abbiamo visto Il punto 1 Nuovi eroi Ora vediamo Cosa ci riserva Questa nuova patch Vediamo Quali sono Le Le novità Che ci andranno A influenzare Allora Primo Verrà aggiunto Un nuovo capitolo Il capitolo 32 Microsproutglade Sarà qualcosa Che avrà a che fare Insomma Con le piante Però Questo Interessa Per lo più Chi è veramente Late late game Cioè proprio In fondo Tra l'altro Probabilmente Credo che nel server Non ci sia quasi nessuno Che sia Cioè in tutti i server Credo che non ci sia nessuno Arrivato Agli ultimi capitoli Se sapete Magari di qualcuno Che è arrivato Chi è quello Che è più avanti Eccetera Fatemelo sapere Nei commenti Andiamo a vedere Il punto 2 E qui comincia A essere un po' Più interessante Ragazzi Perché Già nelle patch scorse In una delle patch scorse La Lilith Si rese conto Che La campagna E la torre De re Erano un po' Troppo Un pochino Troppo Difficili E quindi Avevano Messo mano Alcuni stage Ecco qui Vediamo che Vanno A toccare Questi stage Il 636 E così via Insomma Vedendoli tutti Guardatevi Probabilmente Voi siete bloccati A uno di questi Ecco Mi dispiace Perché vedo Per esempio Che non c'è il capitolo 21 e il capitolo 22 Che sono quelli Che devo andare a affrontare Però Comunque Capitolo 24 E capitolo 20 e 12 Sono belli Sono belli tosti Effettivamente avevano Bisogno Di 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 un Un lavoro Sopra Ecco Quindi Ridurranno la difficoltà Di questi stage Per fare in modo Che piano piano Insomma la difficoltà Sia sempre Graduale E non Blocchi pesanti Come spesso Ecco Allora poi Andiamo a vedere Punto 3 Viene aggiunto Un nuovo viaggio Delle meraviglie Fallen Soul Quindi anime cadute Questo Già ci piace L'ambientazione Probabilmente Si ambienterà Fra Fra i capitoli 19 e 21 La La posizione Viaggio delle meraviglie Saremo molto curiosi Soprattutto Molto curiosi Di vedere le reward Ecco Perché l'ultimo viaggio Delle meraviglie La foresta leggendaria Ci è piaciuta molto Con quella Rowan E ci ha fatto anche penare Insomma con quegli screg Vedremo poi Come sarà Il viaggio Delle meraviglie Poi Viene aggiunto Un nuovo picco del tempo Ecco Questo Questo ci piace Ci piace ragazzi Perché Vedo che c'è Diversa gente Che è già arrivata In fondo E diversa gente Che si lamenta Che i picchi del tempo Non sono Spesso aggiornati Insomma E' tanto Che non aggiungono Uno nuovo Anche se Io Non riesco a clearare Gli ultimi tre Al 100% Cioè Ho districato i picchi Ma Sono veramente Difficilissimi A livello Proprio di Forza Richiesta Dai personaggi Quindi Qui c'è il punto 5 E il punto 5 Ragazzi Aiutatemi anche voi Perché Io l'ho inteso In un certo modo Ho parlato con il Condor E lui mi ha detto Che secondo lui In un'altra maniera Fatemi sapere Nei commenti Cosa pensate Di questo punto 5 Dunque perché Possiamo Dalla 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 nuova patch Utilizzare I diamanti Per Switchare Tra i Faction pack Ora Forse Ho lavorato Un po' troppo Di fantasia Perché questo Switch Probabilmente E' più Una questione Di Scambio Di Cioè Come posso dire Cambiare Il giorno Della fazione L'avevo intesa Un pochino più Tipo della serie Che possiamo Cambiare Dal banner Quello Con le gemme Che evochiamo Solo Cioè evochiamo A caso A un banner Dove con le gemme Evochiamo Di fazione Non lo so Probabilmente No A questo punto Rileggendola Un'altra volta Mi viene da pensare Che sia effettivamente Come sostieneva Il condor puzzle Cioè Che possiamo Con le gemme Pagando Che ne so Sarà una montare Di 50 100 200 gemme Al massimo Probabilmente Di cambiare Il giorno Oggi E' il giorno Dei mauler Io voglio evocare Sui lightbeater Con le gemme Switcho E vado ai lightbeater Probabilmente In questa maniera Poi Andiamo al punto 6 La posizione Dei personaggi Giocatori Adesso sarà Rappresentata Da una Cart icon Quindi da un Cart e carrello Non so Forse Macchinina Non lo so Che immagine Utilizzerà Mi sembra molto Strana Questa cosa Cart icon Invece di Una flag Quindi di una Bandierina Quella a cui Siamo abituati Nel gioco E questo Lo vediamo Nei picchi del tempo E nel viaggio Delle meraviglie Probabilmente ci serve Per vedere A che punto Sono i nostri Amici I nostri Compagni Di Gilda E così via Comunque Insomma È un punto Che secondo me Ha il giusto valore C'è una cosa Molto estetica Andiamo a vedere Il punto 7 Questo invece È molto interessante Allora Abbiamo adesso La possibilità Di vedere I nostri amici E i nostri compagni Di Gilda Nella campagna Quindi nella pagina Della campagna Potremmo vedere I loro progressi Se stanno In questo momento Completando Lo stesso capitolo Nostro Quindi mi viene Da pensare A questo punto Che introdurranno Finalmente Come per La torre del re Un punto Cliccando sul fight Che andremo a fare Come i nostri Compagni Hanno completato Questo fight Inche perché Insomma Altrimenti Mi sembra Sarà perché In realtà Noi già vediamo I nostri Amici I nostri Guildmates Nella pagina Della campagna Quindi Probabilmente Metteranno qualcosa In modo da poterci Far vedere Come i nostri Compagni Hanno Clearato Quello Stage Dove noi Magari siamo bloccati Oppure per vedere Come hanno fatto A sbloccare Gli stage Successivi Andiamo a vedere Il punto 8 Questa è probabilmente Più una questione estetica Qui ci dice Che adesso Sarà possibile Anche vedere I progressi Dei compagni Gilda E amici All'interno Della mappa Quella world Quella che probabilmente Nessuno usa Che è in basso a sinistra Quando siete in campagna Insomma Vi farà vedere Dove sono I vostri amici Poi qui Il punto 9 È un cambiamento Di font E andiamo ora A vedere Il punto 10 E qui ci semplifica Un po' la vita La Lilith Come vedete Per riscattare Le reward Quindi le ricompense Dalla mailbox Qui lo fanno Più che altro Per un discorso Della Legends Championship Quindi Delle scommesse Adesso ci sarà Un pulsantino Collect all In modo che Noi riusciremo A collezionare Subito Tutto Senza dover stare A aprire Tutte le volte La posta Una semplificazione Che non ci Non ci dispiace Ma insomma E ora Andiamo Passiamo Al punto 11 Qui arriva Un regalo Per chi Fa delle transazioni Nel gioco Ora Questo gift Of light Ho provato A cercarlo In giro E purtroppo Non si trovano Tracce Quindi Mi appello A voi Nel caso Abbiate Già trovato Qualcosa Per capire Cosa sia Però In poche parole Il punto 11 Cosa ci dice Che Semplicemente Adesso Riceveremo Questo regalo Della luce Regalo Di luce Come Ricompensa Per una Shoppata Per una Transazione Nel gioco E Bisognerebbe capire Se ogni volta Che lo facciamo Riceveremo Questo gift Of light Qui parla Addirittura Di una cosa Retroattiva Quindi Lo recupereremo Anche Se abbiamo Shoppato Prima della patch E questo Fatemi sapere Nei commenti Se sapete Di cosa Si tratta Questo gift Of light Allora Vediamo Poi Il punto 12 Ecco Questi Questi Punti Hanno già Fatto un Aggiornamento Questa roba Mi piace Un po' Poco E' vero Che Avcarena E' Molto User Friendly Quindi Per fare Un'azione Che di solito Ci vorrebbe Un quarto D'ora Ti fanno Un tastino A pg auto E festa Fatta Ecco A me Però Questa cosa Non piace Per esempio L'ultima volta Che hanno fatto Una roba del genere Che è stato Con le ascensioni Intelligenti Intelligenti Sto cazzo Perché Cioè Abbiamo visto Soprattutto Per chi Inizia a giocare Ti bruciano Savias Che te lo stai tirando su Per giocare in campagna E bestemmi In diverse lingue Tra l'altro Ecco E Quindi A me Questi pulsanti Auto Dove è lì A fare La cosa Più rapida E conveniente No Non mi piace Non mi piace Preferisco Farmele io Le cose Ci perdo del tempo Ma almeno Non spreco risorse Comunque Insomma E' un pulsantino Che cosa andrà a fare I Faction emblems Sono Gli emblemi Di Di Fazione Quelli Del Ce la posso fare Scusatemi Quelli che servono Per aumentare La signaturability Quelli dal Più 21 Al più 30 E quindi Con l'auto Use Farà Da sé Ecco Questa cosa A me Non mi piace Per niente Veramente Per niente Però insomma E' un pulsantino bonus Possiamo Non usarlo Sì che Festa fatta Andiamo a vedere Adesso Qui cosa faranno Reworkeranno Le signaturability E questa è una cosa Che un po' Mi preoccupa Perché dentro A questi personaggi C'è Fox E Fox La signaturability Di Fox Mi piaceva tanto Quindi Boh Non lo so Comunque Ci piace Quando reworkano Significa di solito Che è perché O il personaggio Oppure La feature In questione E' poco utilizzato O comunque poco ottimizzata Infatti come vedete Ci sono Kaz Gorvo E Rain Gorvo ancora Ancora si salva Ma Kaz E Rain Sono veramente Inutilizzati Dappertutto Forse Kaz Nel labirinto Ma Cioè Veramente No Ecco Quindi Andranno a reworkare Le signature item Abilities Purtroppo Per ora Non abbiamo Altri dettagli Ecco Poi Dovremo Aspettare La patch Oppure Che qualcuno Faccia vedere Le foto Sul beta server Andiamo a vedere Poi Gli aggiustamenti E cambiamenti Hanno Ottimizzato Le Descrizioni Delle abilità Di Gwyneth E gli effetti Però Non sono stati Cambiati Invece I cambiamenti Di Antandra Vediamoli Subito Nel dettaglio Come vedete Antandra Per lo più Ottiene Un cambiamento Di Apparenza Cambia L'apparizione L'apparence Quindi l'outfit Del personaggio Nella pre-legendary Cioè Prima del leggendario In modo che Sia più simile Al ritratto Dell'eroe Insomma Roba che ci interessa Il giusto Vanno a fixare Poi un problema Che a Rowan Che onestamente Io non ci avevo Fatto caso Probabilmente Più una questione Di Effetto Visivo Vediamo Qui ci dice Che Praticamente Venivano L'immaginità Delle pozioni Appariva Sopra L'eroe Sbagliato Piuttosto Che su quello Su Il quale Veniva usato Magari Insomma Per chi è più amante Dello studio Analitico Del fight Poteva essere Un problema Al punto 4 Abbiamo Un bug Fixato Su Orthros Che a quanto pare Con la time suspension Aumentava il timer Della battaglia Fighissimo Però insomma Lo fixano Mi dispiace Per chi lo stesse usando Poi Al punto 5 Fixano Un problema Al display Che insomma Faceva apparire Warwick Quando invece Non doveva esserci Quando era invisibile E al punto 6 Fixano un bug Che questo invece È molto utile Perché sembra Che ci fosse Un bug Che non ci faceva Vedere i danni I damage over time I dot Quindi Veleno Infiammato Tutte queste robe qua Non li faceva apparire Nella battle log Quindi nel resoconto E la battaglia Che questo insomma Ci poteva essere Molto utile Per capire anche Chi è che effettivamente Fa o non fa Tutti i danni Della battaglia Quindi La patch note Finisce qui Per ora Grossi cambiamenti Mi sembra Che non ce ne siano A parte qualcosa Sul discorso Della Delle Della campagna E Per lo più Aspettiamo Il nuovo eroe E i cambiamenti A Fox, Cards, Gorv e Rain Questi Ecco sì Un pochino Di hype Me lo creano E in più Un nuovo picco Del tempo E un nuovo viaggio Delle meraviglie Speriamo che Insomma Ci dia una copia A me servirebbe Una copia Di Lucius Ecco Però Vedremo Cosa andrà A darci Di solito Fanno un viaggio Delle meraviglie Difficile Come quello Che c'è stato ora Dove danno Un eroe E poi un viaggio Delle meraviglie Facile Dove magari I premi Sono sempre Grossi Magari sono tante Gemme eccetera Però non c'è La copia Di un eroe Elite Andremo Aspetteremo Insomma L'aggiornamento Per ora Concludiamo qui Se ci fossero Delle novità Scrivetemelo nei commenti Magari andrò a informarmi In questi giorni Sperando di ottenere Qualcosa di nuovo Io sono Sebbigi Vi ricordo Di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina Perché come vedete Insomma A volte arrivano Queste news Brucia pelo E Saperle subito Magari può essere utile Magari anche per prepararvi Mantenere le gemme Vedete Esce un nuovo eroe Lightbeater Magari Vi manca Tenete le scroll Di effazione Aspettate di fare Sui Lightbeater Per la nuova patch Quindi Mettete like al video Se vi è stato utile Se Ditenete insomma Che mi sia spiegato bene Se non avevate anche Già trovato Queste notizie Sono stato il privo A farvele vedere Quindi Vi ringrazio Della visualizzazione E ci vediamo Per un prossimo video